Randomizer di Yo-Kai Watch E' ora? Che dite, è ora? Dopo questa prometto che non porterò più il primo Yo-Kai Watch E basta, perché a un certo punto Bisogna aggiungere una conclusione Tutto deve aggiungere una conclusione, ok? Facciamo che sono da ragazza L'ho presa una volta, Keti Sul 2 Per fare più video per la slot Kai Però, si chiamerà Titiana Perché è Titiana? Boh, mi piace Ah, ovviamente i filmati li salto tutti, eh Non voglio assolutamente vederli Iniziamo subitissimo con un nostro retino per insetti Per andare a catturare insetti a Parco Triangolo Perché abbiamo passato tutta quanta l'estate a bighellonare E non abbiamo ancora fatto il nostro progetto Se voi non avete progetti da fare per le vacanze Quando poi rientrate a scuola È perché non siete in Giappone In Giappone la scuola dopo l'estate Non è che comincia il secondo anno No, continua l'anno nel quale eravate fino a qualche minuto fa Perché la scuola inizia in aprile Devo catturarne tre, bene Uno, due, tre Per quanto riguarda la randomizzazione Ho randomizzato veramente tutto L'unica cosa che ho ottenuto sono i livelli dei boss Perché se non mantenevo i livelli Dovevo o cittarmi gli yokai a 99 O non lo facevo Eccoci qua, abbiamo ottenuto lo yokai watch Dopo aver fatto la conoscenza di Whisper Ok, andiamo un po' Se non sbaglio I primi due yokai rimangono uguali Mi pare, eh Salve, eh Ah Iniziamo così Invece di Shikalama Fortunoco Buono, mi piace È come lo scuola Oddio, non è neanche Boohoo Attenzione No, come lo batto Fortunoco Ah no, però Ho randomizzato tutto Ho randomizzato io in teoria Niente Ha vinto Ah no, ok Non posso perdere La prima quindi non si perde Ok Ah, Bonalama Cacchio Ma è l'attacco di Shogunyan È l'attacco di Shogunyan Bonalama Bono Tre punti esperienza Vabbè Sì, vabbè È uno yokai evoluto Insomma Vabbè Andiamo avanti Va Ah però Boohoo rimane Boohoo? L'unica cosa che faccio È che il prossimo anno La ricerca la faccio Sui funghi Piuttosto che sugli insetti Perché guarda che fine Che facciamo Arriva il Jibanyan Eh, se è il Jibanyan Bisogna vedere Che è qua Questa poltiglia in forme Di fango Un mak femmina Dobbiamo cercare altri Cinque yokai Ma dai Voglio proprio vedere Che succede Avanti Chi è che mi combatte? Voglio vedere se c'è Quadra spy Beh, cacchio Fa male comunque Quadra spy Meglio non dare fastidio A quadra spy Ricordiamocelo Intanto mi arrampico Sull'asta della bandiera Per vedere la vista Che c'è Perché? A cosa serve ora? Ecco Vabbè, forse Questo ce la facciamo Ok, questi potremmo farcela Sapete? No, ma io lo sgombro Al nemico Dai che ce la facciamo Dai, dai, dai Uno è andato Uno è andato Let's go Yeah Fatto Sconfitti Speriamo che qualcuno Diventi amico Perché se no è grave Ah, i da bat Dentro strello Sì E dentro strello E amico Mamma mia ragazze Che difficile È difficilissimo Vincere Perché ci sono Gli ok fortissimi Cos'è? Cos'è questo? Un tonno? Bravo Starpa Dai, è con ste palle Da toccar qua Chissà che energy max Ha dentro strello Andiamo un po' Forte tempesta Ah Bohu non regge niente Ma wow Dentro strello Bravo Oi Attenzione Va bene Sì Non è uno Yokai Che si trova Nel gioco Ecco perché Non l'ho mai visto Però Ha un nome È tradotto Nel medaglio Non si sa dove va a finire No Salvo perché Non so Non viene neanche Visualizzato nel menu Starpa Ma Vabbè Oh L'importante è che Si possa giocare Poi dopo No Starpa Ancora tu No Starpa Dai per favore Scorefighter Ma che è? Ha 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 Ma vai Ma vieni Scorefighter Secondo me Quei due Yokai Che ho appena Preso Che non ho mai Visto E che non sono Neanche Programmati Per essere Giocati Hanno Amicizia Assicurata Al 100% E per questo L'ho presi Senti Gibanyan Ora Hai fatto A posto Signora Negatina Signora C'è un uomo Per lei Fatti sotto Negatina Ma ora Ci diventa Amico Eh si Perché Lui Automatico Lui Dovrebbe essere Una femmina In realtà Cioè Perché Quando ho fatto La tier list Degli yokai Femminili C'era Rubaris E anche L'altro Yokai Colorato Con colori Diversi Ah loro Non so Se Devo spostare L'orologio Moneta Topazio Andiamo a Provarla Subito Andiamo a Provarla Subito La moneta Ah Ti immaginate Vado a combattere Il mio yokai Preferito Velenotto E scopro Che poi In realtà È un Semplice Annebio Capitolo 3 Proteggi I sigilli Io veramente Ora vorrei Andare a Proteggere La mia moneta Per vedere Cosa esce Di bello Allora Sta cosa Delle missioni E dei favori Io vorrei farle Ma anche Per conto Mio Ma meno male Che non ci sono Poi i quiz Cartelli Da fare Per forza Ma scherziamo Amici miei Slot Kai Da provare Sì Qua È Censurato Cos'è Moneta Topazio Dai Vai Ebbè Certo G Bagnina È di rango S Bene Scorefighter È di rango E grande E anche Starp Ovviamente Dentro Starello È di rango E rango Di fortuna Fortuna È di rango Leggenda Boohoo Boohoo È leggenda Bene No Si carica All'infinito Perché non ce l'ha Ah no Ce l'ha Ah Bonalama Fa Ok Forse è solo Un caso È forse È solo Un caso È Però Va bene Dai Comunque Sì Prima o poi Avremmo Avrò Avrò La battaglia Lo stesso Però Però Posso Prendere Qualche Moneta Dall'ufficio Postale Con le Password Perché No Palletta Blu Con moneta Emozionante Ci esce Bluetooth Mo Ne usate Solo tre In questo episodio Perché Non voglio Fare Lo schifo Anime Imbattibile Questa va fusa Che poi Amici miei Ho Bluetooth Si squadra Come faccio A perdere Ah Ma prima C'è da trovare Lo yokai Rivela Beh Quello che Rivela Ah Cupistol Bene Mi piace Veramente No Però Ok Bello Ehi tu Che stai facendo Lì Vuoi rubare La posta Altrui Ti fermerò Io Potere Di Rivela Attivati Sì Aspetta Sono in Anticipo Come posso Aiutarti Ragazzina Signore Fuori dai piedi Ok Ho delle faccende Importanti Da sbrigare Ah Con Rivela Lo incantiamo E ci rivelerai I suoi segreti Quando avranno Tisigeni Della città Diventerò Lo yokai Più forte Presto Non dovrò Più Nascondermi In questo Involucro Umano Ah Ma Ora si combatte Ah ma C'è Bluetooth Ok Bluetooth Mazza Chiodata Potere Degli Orchi Attivato Energy Max Ma che è Pazzo Tavolo Ma sei Impazzito Ok Energy Max Ricaricheto Pazzo Tavolo Quindi è un Attacco Non lo sapevo Non ne avevo La minima Idea Vai Lavabbona Ah no Aspetta Ma non è L'amabbonita Quella di Shogunian Ora che ci penso E sfera Mega Da dare a Bluetooth Assolutamente Bene Abbiamo riparato Tre sigilli E ora manca L'ultimo Siggiro Da riparare Eccolo qua E allora Dai Mettiamo le nostre Belle manine Facciamo L'imposizione Delle mani Come fanno I Oddio Che succede Non riusciva a caricare La potenza Di Trisalamandra Ok Vuoi combattere Ora Perfetto Vediamo un po' Ma è Trisalamandra Per davvero? Ma Trisalamandra Per davvero Non pensavo Fosse veramente Trisalamandra Ok Venate Vediamo un po' Quanto gli facciamo Pazzo tavolo Praticamente devastato Shibanyan Che attacco farà? Chica lo so Però se attacca Tutti e tre Mi fa molto piacere Sì Blues Del che? Ma comunque Ok Perfetto Preso Qua Serve la potenza Della trota Salmonata Eh se già Sarai chiuso Ti faccio Vediamo se ti faccio Chiude Gli occhi pazzi Mannaggia a te Forza Tricolpo Vai Ci metti un po' A caricare Ah però è andata Ha comunque colpito Ok Bene Bene Colpito ed è fatta Bravo Oggi bayano Così mi piaci Sempre attivo Pronto A sacrificarsi Per la squadra Bravo Anche bravi Questi due Scorfani Che comunque Hanno fatto il loro lavoro Ed è bello Scoprire che ci sono Gli okai nascosti Giuro Non sapevo Dell'esistenza Di quei due Gli okai È sempre bello Scoprire nuove cose Ottimo lavoro Ottimo lavoro Prattri Salamandra Si risveglia Prepara Su attacco finale Ma attenzione C'è un figuro Che non conosciamo A proteggerci Non è bella Sta scena Lui che lancia La sua sciarpa Di serpenti All'attacco Bene Il mio lavoro Qui è finito E infatti Direi che allora Posso concludere qui Il primo episodio Di la randomizer Di yokai watch Beh direi che Inizia bene Abbiamo bluetooth Che comunque È registrato E anche due yokai Che non sono registrati Ma che sono inseriti Nei dati di gioco Che bella La randomizer Molto meglio Di quanto mi aspettassi All'ogni modo Il video termina qui Io vi ringrazio Io vi ringrazio per averlo seguito In descrizione Trovate tutti quanti I link utili Anche al canale discord Del creatore Del creatore di questa randomizer Che ha unito il suo server Insieme a un altro Quindi ora Ha un server di Inazuma Eleven So che a voi piace E anche un server di Yokai Watch Quindi vi trovate Randomizer Anche per Inazuma Eleven Save Editor Se vi interessa Insomma tante belle robine Bene Detto questo Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Bye bye